Io ci sono. Una serie di furti in appartamenti che stavano preoccupando l'opinione pubblica. Sì, effettivamente hanno destato non poco allarme sociale questi eventi che hanno, come detto, turbato la serenità dei piccoli centri di Mitrofi a Vibo Valencia, accentuando un fenomeno prima non molto percepito, comunque sicuramente meno presente che negli ultimi tempi, e hanno allarmato la collettività non solo per il fatto reato insieme, ma anche per la tipologia delle vittime di questi reati, che erano per lo più persone anziane, che vivevano da sole e che venivano colpite nella loro intimità, nella loro sicurezza, che era proprio la loro abitazione. Nelle vostre statistiche i reati di furto sbaglio o stanno aumentando? Sicuramente abbiamo avuto un percepibile aumento nell'ultimo periodo, ma non tale da destare un particolare allarme sociale sul territorio. Più che altro, ecco, la nostra attività ha permesso sicuramente di andare a circostanziare un perimetro intorno a dei colpevoli e a dei presunti autori di reato, quindi sicuramente fungerà anche da disincentivo da parte di chi magari ha profittato in questo periodo per, insomma, svolgere questo tipo di attività illecita. Questi sono cani sciolti, non appartengono a nessun tipo di organizzazione criminale della zona? No, non ci risulta. Noi non facciamo distinzioni per gli autori di reato, ma a quanto ci risulta non sono contigui a alcuna struttura. Come avvenivano i furti? C'era un modus operandi per tutti gli avvenimenti che voi contestate ai due arrestati? Allora, quello che ci ha, diciamo, il riscontro che abbiamo avuto dall'attività investigativa ci ha permesso di capire che vi era uno studio preventivo all'azione vera e propria. Si cercava di capire quindi l'abitudine della persona anziana quando era quindi solita uscire dalla propria abitazione lasciando incustoditi i propri averi e a quel punto la coppia entrava in azione. È chiaro che il punto di rottura a questa strategia nasceva nel momento in cui la previsione non andava a buon fine e quindi ci si poteva trovare davanti alla presenza dell'anziano. Ecco, in questo caso abbiamo avuto proprio la rapina che viene contestata ad uno degli autori che ha originato chiaramente da un furto calcolato male. E questo comunque non ha maggior ragione all'arma e preoccupava proprio perché metteva in luce la determinazione nel compimento del reato. Un aspetto interessante è che parte della diffruttiva è stata recuperata. Sì, abbiamo recuperato parti dei monili in oro sottratti in alcuni di questi episodi che sono stati riconsegnati dagli eventi di ritto, cosa che capita non sempre. Decisiva o comunque importante la collaborazione di un rivenditore di oggetti presi o di un compro oro lo considera insomma un dato costitivo? Sì, no, noi dalla collettività di Vibo Valencia stiamo avendo sempre di più piacevoli scoperte vedendo una cittadinanza sempre più attiva e partecipe all'attività investigative dei carabinieri sul territorio. Grazie.